Belisario, un leone al servizio dell'impero bizantino. Flavio Belisario, nato in Illyria attorno al 510, è stato uno dei più grandi generali della storia dell'impero romano d'Oriente. Le sue epiche campagne militari sotto l'imperatore Giustiniano I lo hanno reso un'icona leggendaria, capace di riconquistare vasti territori e difendere l'impero da nemici su più fronti. Le prime battaglie e l'ascesa al potere, Belisario iniziò la sua carriera militare come semplice soldato, distinguendosi per il suo coraggio e le sue abilità tattiche. Sotto la guida di Giustino I ottenne la sua prima vittoria importante contro i persiani in Oriente. La sua fama crebbe rapidamente e Giustiniano I, salito al trono nel 527 d.C., lo nominò Magister Militum, comandante supremo dell'esercito bizantino. Le campagne di conquista, Africa contro i vandali 533-534, Belisario sconfisse il regno dei vandali in Nord Africa, riconquistando Cartagine e ponendo fine al loro dominio. La sua abilità strategica e la sua disciplina militare furono decisive nella vittoria. Italia contro gli ostrogoti 535-540, Belisario entrò in Italia con un esercito relativamente piccolo, ma grazie a una serie di brillanti manovre militari conquistò Roma, Ravenna e gran parte della penisola italiana. La sua campagna contro i goti fu però ostacolata da intrighi politici e dalla mancanza di rinforzi. Persia 541-542, richiamato in Oriente per fronteggiare una nuova minaccia persiana, Belisario ottenne una vittoria decisiva nella battaglia di Dara. La sua abilità nel difendere l'impero contro un nemico potente consolidò la sua fama di generale leggendario. Ultimi anni è caduta in disgrazia, nonostante i suoi successi, Belisario cadde in disgrazia negli ultimi anni della sua vita. Accusato di cospirazione contro l'imperatore, fu imprigionato e poi esiliato. Venne però poi richiamato in servizio per difendere Costantinopoli dagli Unni, ottenendo un'ultima vittoria. Morì nel 565-10, lasciando un'eredità indelebile come uno dei più grandi condottieri della storia. Eredità e influenza, Belisario è considerato uno dei più grandi strateghi militari di tutti i tempi. Le sue innovazioni tattiche e la sua abilità nel motivare le sue truppe gli permisero di ottenere vittorie contro, nemici numericamente superiori. La sua figura ha ispirato innumerevoli artisti, scrittori e leader militari nel corso dei secoli. Conclusione, la vita di Belisario è una storia di ascesa e caduta, di trionfi militari e intrighi politici. La sua leggenda rimane viva ancora oggi, a testimonianza del suo valore e del suo immenso contributo alla storia dell'impero bizantino. Oltre a quanto sopra, ecco alcuni altri aspetti interessanti della vita di Belisario. Era un abile diplomatico e uomo di Stato, oltre che un grande generale. Si sposò con Antonina, una donna di grande intelligenza e ambizione, che ebbe un ruolo importante nella sua carriera. Fu un uomo di grande cultura e raffinatezza, e si interessò di filosofia, letteratura e arte. La sua figura è stata oggetto di numerose opere letterarie, cinematografiche e artistiche.